ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube oggi concludiamo la raccolta dei migliori giocatori ruolo per ruolo ma economici visto che avevamo visto settimana scorsa i giocatori ovviamente migliori per ruolo in assoluto e concludiamo chiaramente con gli attaccanti anche questo ruolo abbastanza complicato perché la disparità tra i giocatori basic quelli veramente top e alta ho cercato di creare una fascia abbastanza intermedia che vi permette comunque di fare degli upgrade dai giocatori proprio standard il primo giocatore che andiamo a vedere quest'oggi è mario balotelli nella sua versione jolly invernali una carta che è veramente pazzesca per quello che è il suo costo ovvero 50 mila credit ma vediamolo insieme un metro e 90 e la sua altezza alto basso il work rate 5 di skill e 4 di piede debole per cui giocatore dotato di una importantissima fisicità che però è aiutata nei movimenti dal 5 di skill 5 di skill che permette a questo balotelli di essere veramente ampio quando magari fa una suola seguita da uno scoop turn uno scoop turn stesso magari anche un elastico o un reverse elastico e in più questa sua fisicità nelle skill lo aiuta anche a tenere a base difensori che provano ad andare a contrastarlo ruolo atti oppure atti chiaramente classico e per quanto riguarda le statistiche abbiamo 85 di accelerazione con anche 85 di velocità scatto una 88 di potenza tiro e 81 di finalizzazione che vi assicuro non sentirsi più di tanto soprattutto quando andate a beccare i time ed gli date veramente una gran mano a questo balotelli in fase di finalizzazione 87 il passaggio corto 75 invece il passaggio lungo 99 di agilità 90 di equilibrio e 99 di reattività con anche controllo palla dribbling e freddezza tutto al massimo queste statistiche di dribbling di balotelli sono praticamente un errore di programmazione perché hanno creato una roba assurda palla al piede sto balotelli pare bei jeder però con l'ampiezza dei movimenti di un giocatore di un metro e 90 in più a 92 di forza 86 di aggressività e anche 85 di elevazione per essere pericoloso sui colpi di testa per quanto riguarda i playstyle abbiamo il razzetto per renderlo ancora più veloce le giocate di classe e il trickster plus che ci interessa relativamente poi abbiamo il power shot argento e il pallonetto argento quello di questo balotelli che stupisce in particolar modo è lo speed boost soprattutto con i doppi passi quando riesce a mettere il primo controllo dopo aver fatto questa skill praticamente non lo prende più nessuno neanche il difensore più veloce a meno che non aveva coperto in maniera preventiva questo movimento ne parlo veramente benissimo perché è qualcosa di fenomenale ed è una carta che secondo me era davvero must have all'interno dei vostri club tant'è vero che ne avevo parlato molto bene anche all'interno delle di del video delle sbc da sbloccare e all'interno di quel video lì ho parlato tanto bene anche di questo luiz hernandez il demone messicano un metro e 75 4 skill e di piede debole anche lui può fare la tt e la t molto rapido soprattutto quando andiamo a fare speed boost finalizzazione 91 e potenza tiro 86 quindi in questo caso finalizzazione più alta rispetto a ballotelli ovviamente questo risente anche del time ed quindi se qualche volta non lo andiamo a fare i suoi gol in percentuale entrano maggiormente abbiamo poi un ottimo 91 di agilità un ottimo 87 di reattività 87 di controllo palla in questo caso anche un 81 di resistenza bene il 68 di forza perché su un giocatore così piccolo evitiamo di andarlo ad appesantire anche se comunque un e 75 anche un discreto body type quello che ci piace tanto sono i play style perché ha il pallonetto ha il forte di testa ha il tecnico il rapido il primo controllo l'aereo ma soprattutto la trivela trivela che lo rende molto interessante sia per quanto riguarda ovviamente il ruolo di prima punta ma anche volendo il ruolo di esterno già perché questo hernandez vista la sua agilità e vista la sua versilità versatilità lo possiamo tranquillamente andare a schierare anche un po' più largo anche qui in questo caso era una sfida che costava veramente due lire perché con 100.000 crediti ci portiamo a casa un attaccante che anche da backup da super sub oppure da tampone in questo momento in cui non abbiamo voluto spendere i nostri crediti in attesa di altro secondo me andava assolutamente portato a casa terzo giocatore che continua ad essere uno dei migliori in assoluto e son nella sua versione if 88 4 skill 5 piede debole un metro 83 lo conosciamo benissimo son in questo caso per le ibride lui può fare oltre alla tt e alla t anche le s e la s quindi 150 opzioni diverse per questo giocatore in particolar modo poi quello che ci piace tanto è che è una carta molto veloce dotata di ottima potenza tiro fino ad attrazione agilità che risulta anche discreta nonostante il metro 83 buono il passaggio corto ma ovviamente la cosa spaziale di questo son oltre al razzetto e al rapido base e questo tiro a giro plus che continua ad essere una delle opzioni più viabili nello stato attuale del gioco per poter segnare soprattutto quando becchiamo delle difese molto compatte che si vanno a chiudere il classico tiro da tre sulla sirena il day in time del tottenham che in questo caso appunto ci va a dare una mano per risolvere quelle situazioni quindi son devo assolutamente inserirvelo un altro giocatore che non costa tantissimo e joao pedro che era partito ovviamente da una versione molto più basic questa è una carta dinamica ve lo ricordo che però ora non si opererà più un metro 82 4 skill e 4 piede debole facilmente ibridabile essendo brasiliano e facilmente ibridabile avendo tra i vari ruoli anche il coc quindi potrebbe tornarvi comodo è rapidissimo con i doppi passi si speed boost a bene anche perché è dotato di una gran fisicità un metro 82 peccato non abbia la quinta skill molto bene il passaggio corto per dialogare nello stretto con i compagni 97 di agilità 87 di reattività 90 di controllo palla 95 di resistenza che ve lo fa durare praticamente perpetuo peccato in questo caso la forza che leggermente lo appesantisce però andiamo a recuperare con l'unico play style figlio unico di madre vedova che ha che è il tecnico che quindi ci permette di poter utilizzare la corsa scusatemi il rapido che quindi ci permette di poter utilizzare un dribbling molto più preciso quando siamo in corsa andando a ridurre quello che è il margine d'errore sull'allungamento del pallone una carta che a me ha convinto tantissimo e che per quello che costa vi continuo a consigliare così come un'altra giocatrice che vi continuo a consigliare tanto è questa kelly smith nella sua versione centurione una carta che anche qua secondo me è stata un po sottovalutata perché stile di body type siamo più o meno sul bay header level perché 1 e 68 le manca al 5 di piede debole però è un 4 4 quindi molto bilanciato att e atti sono i suoi ruoli giocatrice rapida giocatrice che palla al piede è veramente qualcosa di incredibile grazie a quel 92 di reattività e quell'84 di agilità che per me è perennemente fake 83 di forza che non la appesantisce minimamente e poi abbiamo un 88 di potenza tiro che è inusuale per una calciatrice e 93 di finalizzazione che appunto va a completare il quadretto di un finalizzatore veramente efficace sottoporta in più abbiamo il tiro a giro argento il playstyle plus delle palle inattive che può sempre tornare comodo il primo controllo e l'aereo con il forte di testa sempre basic che sono comunque dei playstyle soprattutto il primo controllo che è sempre meglio avere chiaramente questi due su una giocatrice di un metro e 68 non è che le andiamo a sfruttare più tanto però anche la smith secondo me deve rientrare in questa top così come in questa top più che la versione pot di paolo di bala io metto un'altra carta che secondo me è stata tanto sottovalutata proprio perché era uscito il pot però a differenza del pot questa carta jolly è 4 4 quindi è molto più completa risolve un po il problema del piede debole che di bala si porta dietro ogni anno e in più è facilmente imbridabile grazie ai ruoli visto che anche il coc oltre alla t e alla t è bello rapido perché poi essendo piccolino si muove molto bene anche nello stretto grazie al 90 di agilità o 92 di equilibrio quello 81 di reattività palesemente fake finalizza molto bene 89 la finalizzazione 90 la potenza tiro ma quello che sono veramente incredibili di di bala sono le sue trivele visto grazie al playstyle plus della trive la stessa il tecnico che lo aiuta ancora di più a muoversi anche il tiro a giro bianco che andando ad unirsi al 95 tiro e la distanza lo rendono pericolosissimo anche appunto in zona un po più lontana dalla porta quindi anche questo è un giocatore che come nel caso di son ci può dare delle opzioni per risolvere quelle partite contro avversari veramente chiusi dietro che ci fanno dei muri che sono difficili da superare altro giocatore che inserisco in questa top è doniel malen ho inserito in questo caso la sua versione pro live ma lo stesso discorso vale per la sua versione evoluzione per quelli che lo hanno fatto con la trive la plus giocatore fisico perché quasi un metro e ottanta 4 4 può fare diversi ruoli le d la d la tt e la s quindi facilmente imbridabile anzi molto imbridabile 96 accelerazione 92 la velocità scatto 90 il passaggio corto per dialogare con i compagni 92 la potenza tiro e 88 la finalizzazione molto bene quindi in fase realizzativa 93 di agilità 92 di equilibrio 87 di reattività con 82 di forza questi sono parametri un po fake perché vista la sua importante stazza visto che è un bel body type certo non è agile per dirvi quanto di bala o addirittura più agile perché se vediamo addirittura praticamente 93 di agilità è maggiore di di bala l'equilibrio è uguale la reattività e di più vi sfido a far girare malen meglio di di bala quindi dovete calcolare anche quegli altri parametri che incidono playstyle che sono ottimi perché in questo caso abbiamo il razzetto il tecnico le giocate di classe primo controllo il passaggio teso mentre per quell'altra versione ci portiamo a casa pure una bella trive la plus che anche lì se lo vogliamo giocare da esterno può essere assolutamente una risorsa da sfruttare chiudiamo con due diciamo fuori quota come alle olimpiadi quando si fanno le olimpiadi di NBA cioè di pallacanestro o di calcio si portano i fuori quota si possono portare noi in questa top ci portiamo questi due fuori quota ovvero cantonà e davis cantonà nello specifico è un po il rappresentante della categoria che si porta dietro pure torres eccetera nonostante per me cantonà sia il capo stipide visto che ha anche 5 di skill ed è un giocatore stile cristiano ronaldo che per me attualmente continua a fare la differenza se vi piacciono giocatori appunto stile balotelli perché è un po stile balotelli questo cantonà invece dal glisch si porta dietro tutti i vari traul i vari di natale eccetera ovvero quei giocatori un po piccolini che hanno comunque il playstyle plus del tiro a giro che però risultano comunque molto validi però principalmente in attacchi a due quindi quando avete bisogno tuttora di attaccanti che hanno queste caratteristiche secondo me i vari dal glisch eccetera continuano a dire tranquillamente la loro anche perché per quanto riguarda le icone e magari anche proprio di natale hero tanti sono usciti pic pac eccetera e ce li avete nel club e pensate che sono superati quando invece risultano ancora tremendamente efficaci ragazzi anche per questo video è tutto a me non resta altro che ricordarvi che sono live tutti i giorni sulla piattaforma viola da mattina fino a primo pomeriggio di commentare facendomi sapere quale di questi giocatori usate oppure quali state utilizzando tuttora in più di lasciare un bel likeettino che mi aiuta a far girare il video per il resto ci vediamo prossimamente qui sul canale e al vostro Liberoschi alla prossima ciao